bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video siamo su the higher lover game è un gioco che si trova online che adesso sembra qualcosa di molto brutto da questa immagine però credetemi è abbastanza figo praticamente il gioco consiste nel scegliere se è più famoso ci darà due opzioni e dobbiamo scegliere qual è più famoso delle due allora iniziamo è più famoso New England Patriots o abusare delle domestiche credo che sia meno famoso credo che sia più famoso non so perchè però vabbè di poco ma ok più famoso Alan Pro Prost o Hulk Ogan che ne voglio secondo me è più famoso madonna ne ho abituti che non conosco di più di meno dovrei farlo io così non ne conoscevo uno Diana Ross che ha 368 mi o o Auston o Auston credo che sia meno famoso ma invece Pist muore nooo poverino credo che sia il più famoso più famoso Summer o Inception credo che sia il più famoso più famoso credo che sia meno famoso Rod Steward eh, non è tanto Edesterlar io non conosco però credo che sia meno famoso minchia se è famoso perché? allora non so cosa voglio dire e Algeria credo che sia più famosa l'Algeria a questo punto eh credo che sia più famoso sì credo che sia meno famoso minchia se non credo non so cosa voglio dire però dall'immagine credo che sia meno famoso per l'appunto Gillette mi sa che è molto più famoso Gillette no ah no pari pari l'almeno di più di più vabbè dai dobbiamo arrivare almeno a 10 score che sono qua in basso allora non ci ha capito niente o credo che sia molto più famoso invece no Juventus o Rolex e Rolex credo che sia molto un po' molto di meno di meno non ti conosco ma credo che sia più famosa dei dei refughe questi e scange credo che sia meno famosa vabbè troppo che sguardo assassino allora american beauty sinceramente credo che sia più famosa eh beh non di tanto però è più famoso credo che sia più famoso ancora quindi dice no non ce lo caga nessuno poverino allora tex oh credo che sia meno famoso 880 mamma mia oddio credo che sia molto più famoso non di tanto però è più famosa non di tanto però è più famosa meno ma che cosa è è simulato credo che sia molto più famosa in quanto the working dead ecco direi che sta come sta dai è proprio così più famosa la piglia di meno giusto chi lo conosce sto qua credo di meno ancora credo di più stavolta di più giusto siamo a 5 molte di più di meno giusto dimmi ancora cosa ma chi lo conosce sto verizo dobbiamo arrivare a 10 vabbè sarà più alto cosa questo è quello che faccio io quando sclero sulle mappe parkour in minecraft credo che sia più famoso eh di meno di meno di meno famoso ah non ne prego così tanto però golf meno famoso meno del meno famoso cioè mickey minaj sarà così famosa che riesce a provare scritto dallo schermo credo che sia meno famoso invece no sbagliato che cacchio credo che sia più famoso invece no no se lo cagano il fu di meno di meno invece tutti vanno su film di my phone ah allora waterpool del pool credo che sia più famoso certo eh che famoso invece no allora credo di meno ecco quello che farò dopo questo video che famosa chissà caga credo di più invece non so che bravo info non c'è caga nessuno per l'appunto a fare a credo che sia più votata la omofobia di meno di più di 90.000 ok era già avvenuto non so di meno invece no un orcano a 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